potete vedere i sintomi del parto imminente le contrazioni addominali la coda sollevata è al 98 la bovina del video precedente qualora nel giro di qualche decina di minuti non vengano esposte le prime acque il sacco amnotico e sacco all'antoideo occorrerà procedere a un'ispezione per verificare che tutto il parto sia utocico questo è il momento per passare la bovina nel box parto manovra che ci consente anche il controllo dell'animale quindi a breve procederemo al passaggio nel box parto just in time un'ispezione